La Castellanzese si fa sempre più grande. È nato il progetto Galassia Nero Verde, una nuova avventura che permetterà alla società del presidente Affetti di allargare i propri orizzonti e il bacino del settore giovanile. Insieme alla società Marnate Nizzoline e Sport Plus si è dato il via a un nuovo capitolo che porterà la Castellanzese a trovare qualità e quantità nel lavoro sui piccoli calciatori. Questo progetto prevede l'intreccio di tre principali tematiche. La prima è chiaramente a livello tecnico, la seconda a livello formativo e la terza a livello organizzativo. Quella inerente al campo tecnico, l'area tecnica, diciamo, chiaramente va ad influire direttamente sui nostri atleti che verranno formati e quindi dovranno migliorare tecnicamente seguendo le nostre metodologie e quindi il modello Nero Verde. La seconda area, che è quella formativa, prevede appunto una formazione continua dei tecnici delle nostre accademie, fornendo loro e facendo loro proprie le nostre linee guida. La terza, quindi l'area organizzativa, è chiaro che una società è stabile e di grande prospettiva se ha una grandissima organizzazione. Quindi l'obiettivo nostro è di dare un imprinting organizzativo importante sia a livello societario sia a livello di eventi.